Salve ragazzi, ora voglio presentarvi la mia carta preferita, la che hanno fatto questa rubrica, è lui Oxids Eliminatore, è una carta di bt16 che non ha limit break e che dice il costo di trea, eliminatore, metto un altro guardia eliminatore nell'anima, elimino i vanguard, posso eliminare anche la Leon e lui prende il pt16.000. Poi il secondo è, durante la parte di convocazione del tuo avversario, se il tuo avversario sta per convocare deve scattare una catenata a mano. Questo è tutto, spero che questa carta vi piace.